Oggi sono a Tivoli, più precisamente a Villa Adriana C'è un sacco da vedere, però tira un sacco di vento ed è freddissimo Io vi consiglio di andare a vedere e il resto lo vedete voi Grazie a tutti Ciao Ciao Oggi sono a Napoli, non so se mercoledì sia giorno di mercato, però devo dire che è parecchio a collato Ciao 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 Napoli e un po' di sorrento si vola alla volta di Caserta, ovviamente non si vola le It's a tenderi Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.